Siamo soddisfatti perché arriviamo da una partita di mercoledì giocata un po' male sotto i nostri standard e quindi abbiamo voglia di vincere e fama di vittoria. Adesso vi aspetta una partita difficile come vi preparerete? Faremo sicuramente attenzione alla nostra squadra che ci capiterà e prenderemo le dovute preparazioni come a tutte le partite. Allora il bilancio è sicuramente positivo perché siamo un gruppo veramente giovane, io per primo e piccolo. È stata una stagione anche piena di infortuni ma siamo sempre riusciti a dare il massimo, arrivare fino a qua che non è una cosa da poco. Nonostante avere avversità abbiamo giocato, non è il nostro miglior gioco, è un gioco soprattutto, si voglia fare meglio ma abbiamo dato il massimo, siamo un grande gruppo e ci ripeteremo l'anno prossimo.